intanto un minuto di silenzio per Mazzone, doveroso, doveroso Dan Bozzi cagliatini titolare va Alex se ti interessa ancora prendiamola noi, prendiamola noi bravi dai dai Dan Bozzi dentro forte Denzel GO! GO! E dai! Subito! Dai! dai cazzo! No ragazzi sono già due volte che sbagliamo questi appoggi Dalmian non mi sta piacendo, non mi sta piacendo per niente è già un terzo appoggio che sbaglia facile non mi piace per niente quando lo regaliamo usiamo in totale il controllo noi e gli regaliamo la palla cioè è pazzesco, guarda che roba, guarda dal niente creano un'azione incredibile mamma mia, mamma mia eh addirittura ha munito ma piantala dai ma smette, non gli ha fatto un cazzo minchia pronti da te cioè questo qua ha fatto un fallo niente cazzo lo stato oh, meno male meno male che ha munito Caldirola meno male cazzo meno male che ha munito Caldirola minchia bravo Lautaro nooo ma guarda te che culo di merda guarda roba da pazzi roba da pazzi roba da pazzi via cristo santo via cazzo porca puttana mamma mia cosa ha preso mamma mia cosa ha preso c'ha la nuova ragazzi mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia cazzo il due di nuovo porco dio quattrocento altra azione da sempre dalla stessa parte porca puttana dai dentro mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma calma 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 giochiamo facile bravi dai 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 vai Anna nooo peccato è finita ragazzi è finita finita 2 a 0 primi tre punti portati a casa molto bene 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 le difficoltà non sono mancate ma va bene così ma l'importante era vincere l'importante era vincere ragazzi bene così va bene così grazie